Sono Lucio Cecchinello, Team Principa del team LCR Honda MotoGP. Ho corso come pilota da fine degli anni 80 fino al 2003. Nel frattempo, nel 1996, ho avuto la grande idea di fondare il team LCR, quindi mi dividevo tra essere pilota e imprenditore. È stata una bellissima esperienza che ci ha portato oggi ad avere una realtà con oltre 50 persone e collezionare oltre 100 podi in tutte le categorie. Abbiamo corso e vinto nella 125, corso e vinto nella 250, nella MotoGP e anche nella MotoE, che è l'ultima categoria delle moto elettriche. Grande soddisfazioni però che si ottengono con l'impegno di tante persone, ma soprattutto anche di partner affidabili. Tra questi partner abbiamo 3D Beta, una grande azienda che ci ha messo in condizione di poter organizzare e predisporre al meglio il nostro reparto corse. L'evoluzione e il miglioramento è parte intrinseca delle competizioni e nel 2019 siamo riusciti insieme a 3D Beta a rendere il nostro reparto corse più organizzato, più funzionale e più bello da vedere. Grazie. Grazie. Grazie.